BELLA TUTTI DA PORKMODZ Ma neanche parte sta gara Oh finalmente dai 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 Ok abbiamo preso anche il turbo Allora andiamo guarda questo che macchina che si è preso Quella di Halloween Via 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 Ok ci rigiriamo Allora andiamo 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 Chi l'aveva vista sta cosa qua Allora andiamo Oddio che casino Andiamo 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 speriamo non mi spingono troppo Oddio Niente Allora qua la vedo dura E' importante prendere il primo checkpoint Poi ce lo faccio No 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 raga è impossibile la parte iniziale Poi non è che siamo 4 o 5 siamo un 14 Un 14 No è impossibile raga Come faccio Allora dobbiamo stare calmi E dobbiamo pensare Allora loro stanno tutti incastrati Come vedete è impossibile andare avanti Bisogna trovare il momento ideale Andiamo Andiamo dai muovetevi Veloci che tanto mi spingono qua Lo sapevo raga Allora dai 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 No 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 Rimettiti bene No 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 Fammi rimettere bene Sui Levati Guardate guarda Conviene sempre farle Le gare parkour Non in 14 Ma almeno 7 e 8 E' perfetto come numero Perché in 14 è Importante prendere il primo checkpoint Dopodiché basta E' fatta Dai Muoviti 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 Sbrigati 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 Non voglio rifare tutto Andiamo 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 Per favore Per favore Andiamo 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 Ok Ok Oddio Non mi sembra vero Non mi sembra vero Ok siamo pure in decima posizione Non so quanto siamo Allora Andiamo Ok Proseguiamo Allora Andiamo 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 Perfetto Qua entriamo bene Sì Dai Un checkpoint Dove bisogna andare Di qua Allora Andiamo Qua ci sta un turbo Prendiamolo subito Dimmi che c'è un checkpoint Vai così Allora Andiamo Siamo in terza posizione Raga Seconda Non lo so Allora Via 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 Proseguiamo Allora Giriamo Di qua Ok Andiamo giù Prima posizione Raga Subito Il suino In prima posizione Guardate Allora L'importante E sempre Prendere il primo Checkpoint E quella La cosa Più difficile Dio Stai Chiara Non so se ce la faccio Eh lo sapevo Bisogna andare veloci qua Allora Ci riproviamo subito Mi hanno superato Pure un po' Andiamo 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 Via 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 Allora Quella parte Bisogna farla molto veloce Non bisogna fermarsi troppo Qua c'è un freno Vero sì Andiamo 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 Quello ce l'ha fatta Allora Andiamo Di qua Qua facciamo tutto veloce Uno E due Ok Meno male che c'è pure l'albero Che ci aiuta Muo Facciamo così Prendiamo la rincorsa da qua Facciamo così Perfetto Sì 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 Ci siamo Adesso pure qua facciamo Veloce No 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 aspettate Si può ancora risolvere Secondo No non si può risolvere niente Dai 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 Ce la dobbiamo fare Via 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 Ok Andiamo Bella Andri Allora Via 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 Ok Stavo quasi a casca Dai ce la dobbiamo fare O ci aiutiamo con gli alberi Che forse è meglio cosa Allora Facciamo così qua Vai Oh No no Perché ho fatto questo Riga Che cosa ho fatto Ve lo spiegate Allora Andiamo Andiamo Perché retromarcia Poi Riga È difficile Retromarcia Anzi è più facile Se devo dire La verità Però come faccio A rigirarmi giù Non posso fare La gara Retromarcia Oh Frena 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 No riga Aspettate Facciamo qualcosa di impossibile Olle Mamma mia Arzuino Riga I numeri D'Arzuino Via Via Ok Allora Ci aiutiamo sempre con l'albero qua Oh No Mannaggia Ok Andiamo giù Prima ho fatto veramente dei bei trick Qua Mi sono riuscito a rigirarmi E poi che faccio Casco come niente Allora Bella Suino Imbalsamato È la prima volta che lo sento Suino imbalsamato Allora Andiamo Ah ma cascano le foglie Quando va addosso all'albero Guardate No adesso non casca Si casca Qualche foglia Via Oh Oh Ok Se no riga C'è un altro metodo Secondo me per passare Voglio provare Voglio solo provare Perché se faccio così Eh In effetti Si può passare tipo sull'equilibrio Di lato Oddio qua Oh Oh Fermi tutti Qua per forza così Si Ok Qua per esempio non c'è rincorsa Quindi dobbiamo fare Così Oh No Non ci voglio credere Ok raga Andiamo 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 Oh Ce l'abbiamo fatta fino a qua Oh Non sgommare troppo Ok Allora adesso No 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 Aspettate aspettate Via 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 Oddio 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 Ok 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 Ci siamo Mamma mia ce l'abbiamo fatta Raga non era così facile quella parte Eh Allora adesso Non dobbiamo sbagliare proprio nulla eh Se sbagliamo adesso proprio Sono cavoli Allora Andiamo 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 Ok Guardate che figata qua Dai Ok Andiamo 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 Oh 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 Ok Ok Pensavo che non c'era la tenuta e scivolava giù Dai per favore il checkpoint Andiamo 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 Oh Ok Via 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 Perfetto Oh 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 Ok Dai 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 per favore Per favore Ok ce l'abbiamo fatta Eccolo qui Il checkpoint Adesso Adesso proseguiamo per la gara parkour Allora Bella lunga questa Via 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 Oddio che qua si incastra Andiamo 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 Ok Andiamo anche di qua Vai Proseguiamo Oddio qua che bisogna fare Ok Ce l'ha fatta Meno male Oh Ho visto tipo un lieve lag Oppure c'era qualcosa qua sotto Non lo so Allora Andiamo Dai Sali qua sopra Non così No Sì 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 ce la può fare Sì ce la potrebbe fare Se Se gli va Dai Guardate perché se deve incastrare Così No che mi recuperano pure Mi recuperano Soli Aspettate Perché devo respawnare Quando arriva il padrino Che mi può dare una mano Allora Dai Dai Osserviamolo Eccolo lì Dai sui Mi serve una mano No no Non mi sbaglia però Solo ci metto 50 anni Ok è ancora vivo È ancora vivo Sembra No ora si incastra come me Casca pure Niente da fare ancora Aspettate Arriva Mi Mirk Bomber Che lui è molto bravo No L'ho superato il padrino No regà Io rimango qua Non mi va a respawnare Ti immagino Ora ce la fa da solo No non ce la fa Dai datemi una mano Datemi una mano Per favore Di nuovo sbaglia così lui No Dai Vedete qua No regà Mi sa sbaglia No non sbaglia Io una volta mi dà la spinta Devo stare attento Che devo rigirarmi bene Dammi una mano Ok grazie Andiamo 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 Ok No 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 Troppo troppo Ok Aspettate Bella Vi Vision Ah ha detto solo spingono No 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 Regà per guardare i messaggi Ogni tanto Faccio i fail Allora Andiamo 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 Ok Allora Proseguiamo Mamma mia Che non c'ha sta macchina Non entrava Che è qua altissimo Via Cioè è altissimo È bassissimo No È questa La macchina Che bisognava scegliere Ah meno male Ce l'ha fatta Allora Adesso qua Qua Aspettate Aspettate Eh raga Qua è tosta Aspetta 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 Aspettate Allora Qua Possiamo fare Così Ci rigiriamo ancora Ok Possiamo andare Allora Vai 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 Ok ce l'abbiamo fatta Allora Andiamo qua sopra Dai Dai Sui Vai tranquillo Siamo in seconda posizione Come è possibile Chi mi ha superato È impossibile Regà Ero io il primo Ora vediamo subito Ma credo che sia Buggato No Sta dietro di me Milk Bomber Ah no Era avanti Non lo so Regà Io mi ricordavo Che ero il primo Allora Via 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 Ok Regà C'è stato il checkpoint Vai Sui Piano 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 Ok Qua andiamo Veloce Veloce Vai Adesso bisogna andare qua Regà Facciamolo A tutta velocità Questa parte A tutta velocità Vai 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 Ho fatto pure Il green Allora Vai Andiamo qua No regà Lo sapete a che servono Ste capanne No Per un avanti indietro Sicuramente Dai Dai Non ti incastrara così Ok Allora Di solito le mettono se c'è un avanti indietro Eh in effetti Ci sta Eccolo qua Allora Perfetto Ci rigiriamo Vai Adesso ripartiamo subito In caso lo aspettiamo In una casetta Oppure si mette lui in una casetta In una bancarella Andiamo Ok Qua facciamo Così Ce la dovrebbe fare Vai Sui Vai Ok Normalmente Così si dovrebbero fare Le gare Ora Alcuni Non lo capiscono Purtroppo Allora Andiamo Meno male che Padrino era bravo Allora Via 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 Troppo Troppo Sta registrando Il rockstar editor Oh 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 Ok Andiamo qua Allora Ma hai detto a che serve il rockstar editor Ragazzi Faccio le miniature con questo qua Con quello che gira qua sotto Oh Guardate un po' Ma guardate un po' che ci sta qua davanti La prima posizione Suina La prendiamo in marcia indietro Allora Vai 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 Ok Concludiamo così Questa è pure cascato E ci andiamo a prendere questa bella prima posizione Se vi è piaciuta questa gara Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Seguitevi su Instagram Saluti Questi suini Bella Grazie a tutti